ciao a tutti ragazzi da Naguzzi piccola errata corrige sono incristito incazzato tantissimo così è successo ovviamente il sistema ps4 funziona in questa maniera tu fai la registrazione con lo streaming dopodiché tutto ciò che viene registrato viene messo su una chiavetta usb quindi passaggio ps4 chiavetta usb e poi dalla chiavetta usb il tutto viene trasferito al pc ultimamente sta succedendo che al terzo video che carico sulla chiavetta usb nonostante ogni volta la chiavetta viene formattata niente praticamente è andato si è corrotto si sono corrotti tutti i file e di conseguenza così il momento in cui vado a mettere la chiavetta collegare la chiavetta sul pc non trovo più nessun file per cui sono andati persi perduti e che dir si voglia molti file di cui alcuni della carriera allenatore alcuni bellissimi della carriera calciatore che è stata esplosiva si dall'inizio per cui vi chiedo scusa io continuerò la carriera per quello che posso fare e spero che comunque il tutto vi piaccia come sempre un abbraccio ciao a tutti da nuggles ai prossimi video